a a a a a Allora, ciao a tutti. Allora, continuiamo la storia di Mondale del nuovo... Zeffo, dove è Zeffo? Zeffo, sono qui, dobbiamo andare a Zeffo, viaggia. L'amante si rischia di diventare un catorcio dopo questo viaggio. Perché prima era perfetta? Era un capolavoro, però adesso... Sto seriamente pensando di farti pagare i danni. Qualcuno è accorto di liquidi? Beh, sì, forse. È anche questo, ma sono abituato. Sei mai stata ricca? Non è tra le priorità di un Jedi. Già, anche io ero povero, ma non mi lamentavo. Con i miei compari rimediavo sempre qualcosa. Così ho imparato a giocare a Sabak. Un gioco con i crediti. Strana scelta. Eravamo giovani. Puntavamo di tutto, dal cibo alle rocce dalla forma strana. Purtroppo crescendo le cose sono cambiate. Le rocce dalla forma strana non bastavano più. La galassia sarebbe stata un posto migliore. Seduto ragazzo, atterriamo. No, bisogna sedersi. Laggiù c'è una tempesta niente male. Non è il momento migliore per atterrare. Già, c'è qualcosa di strano. Quei venti disturbano le comunicazioni. Cordova ha accennato a una pace nell'occhio del ciclone. E lì al centro vedo un insediamento. Bene, andiamo lì. Ah, ricevuto. Non morirai per un paio di scossoni, ragazzo. Se vento non peggiora. Puoi dire a quella mascia dei bulloni che non ho chiesto il suo parere? Stai tranquillo, è tutto sotto controllo. Sicuro, è solo una manovra un po' complicata. Ci siamo, reggetevi, reggetevi. Atterraggio perfetto. Grisi non sbaglia un colpo. Ma le comunicazioni sono ancora molto disturbate. Mi servirà tempo per ripristinarle. Intanto cercherò qualche traccia di Cordova. Bene. Ti contatto appena finisco qui. Ok, facciamo un paio di... Cala, qua giù. Bravissima, è andata, è andata. Sei ancora tutta intera. Che guardi? Con chi stai parlando? Con la mia nave. La Mantis. Bel nome, eh? Minaccioso. Oh, che vuoi saperne tu? Di sicuro non hai mai pilotato una nave. Forse un giorno te lo insegnerò. Quando avrai finito le tue cose da geni, ti farò anche uno sconto. Hmm. Esploriamo bene perché possiamo sempre trovare qualcosa di utile. No, voglio vedere cosa c'era di qua. Eh sì. Nuova skin per più di uno ottenuto. Proviamo a vedere. Bello. Sul blu. Allora, qui c'è una porta. Allora, qui c'è una porta. Anche al disu... Indisuso. No. Va bene. Che cos'è? Nuova punch? Voglio andare avanti di là, vediamo cosa c'è di qua, che c'è una porta. È sigillata, ok. Quindi per forza andare di là. Non c'è altro modo. Attento, BB. Non sono amichevoli. Cal, mi senti? L'impero. Hanno trovato Zeffo. Se stessero seguendo la Mantis, adesso ce li avremmo già addosso. Che stiano cercando le tombe? Speriamo di no. Ho sistemato le nostre comunicazioni, farò lo stesso per introdurmi nelle loro. Sto dell'esploratore. Porca vacca! Per me è stanzione. Per me è stanzione. Per me è stanzione. Buscaz! Qua c'è qualcosa. La strada è giusta di lì, però c'era un'altra strada all'altra parte. Chi mi portava di qua? 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 Fatto! Quanti sono stati Steam? Eh, adesso ne abbiamo quattro. Eh, mi ha fatto bene venire qua, eh? La strada era l'altra, però... ...era giusto venire di qua. Ho trovato un nascondì... ...un luogo segreto. La pausa è finita! Si difende bene! Bersaglio individuato! Un'altra scansione? ...diva cosa c'è qua! Mi sembrava che c'era qualcosa... Oh, bene! Ah, c'era qualcosa! No, mi metto ora dove... No, mi metti qui... ...mi metto ora... ...ma un po' ...mi metto ora... ...ma un po' ...ma un po' ...ma un po' Vado a vedere perchè sono sicuro che lì sopra si possa andare. Villaggio abbandonato. Sistemazioni più comode ora che gli archeologi se ne sono andati. Giusto. Ci avevano avvertiti dal comando. Lo farò dopo il cambio del turno. Ecco gli incendi! Possiamo farcela! Non sei così bravo! Staccatelo, presto! Eh, mi sono pronta ad affrontarci! Ok. Non puoi scapparci! Ho sbaglato! Ponto abilità, ottimo. Vediamo un po' nella zona qua. Scansiona. Sono tutte bugie. L'impero voleva questa terra. Ho un viso allontanamento. Stavo controllando se si poteva andare sopra, invece no. Però, diciamo che conviene sempre controllare. Ti vedo! Adesso non mi vedi più! Adesso non mi vedi più! È sparito! È sparito! BD1, hai trovato qualcosa? Disparerò! Abbassiamolo! Adesso sapevo che sarebbe finita così! Mai che andiamo! Niva mio! È unplumatutto! Mai. Questa è totalmente diversa! V coveredcio suite! la abilità la abilità stante la uscire a scopcare quella pozzale uuuh No, non ce la fai lì. Eh, ho capito, di lì non si può andare. Non puoi forse rifassare di qua. Posso affrontarlo da solo. Attaccate! Proviamo un punto debole! Oh! Un aiutino! No, 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 nessun potere. Non si apre. Di lì siamo passati prima. Questa non si apre. Devo andare di qua per forza. Dove ci stai portando? L'impero ha cacciato gli abitanti dalle loro case. Profughi spaventati, spediti nei campi o... O peggio. Eh sì, deportazioni. Dove dobbiamo andare? Ora che si vado di qui faccio una brutta fine. Dove dovrebbe essere un modo... No we... No! No. No, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no abbiamo trovato allora appena sono questo dispositivo va riparato il braccio connettore ci sarebbe un qualche modo per tirare giù c'era una scansione che ho perso allora facciamo questo lavoro calcio evasivo in attacco strato facciamo questo ok un pianto torri un pianto torri Cosa? C'è lì! E non ho finito! Ma guarda un po'! Esploratore! Ma guarda un po'! Un po'! Da! Un po'! Un po'! Un po'! Un po'! Che hai trovato? Che hai trovato? Tutte le unità alleate eliminate! Nooo, ha fatto una brutta fine! Ok, guarda! Ok, guarda! Va bene! Oh! Sembra conciato male! Eh, un pochino si! Ok! Dove dobbiamo andare? Prima di tutto! Io proverei ad andare a vedere qua! Scorciatoia sbloccata! Vediamo un po'! Oh! Una bella scorciatoia! Oh! Oh! No! È sopra di noi! Colpiteli! No! È... 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 Aveva un po' esagerato! Nel salto! Il bersaglio è ferito. Indietreggio. Forte e chiaro. Posso farcela. Ah, sono arrivati a questo punto. Vediamo un po'. Ah, è entrato a qualcosa di utile. Se serve il braccio, ok, ho capito. Ma vai a cagare. Che cura di schiena. Ho rischiato grosso. Non ho il potere. Allora, spero di riuscire a trovare un posto per meditare. Vediamo se c'è qualcosa. Se qualcuno qui l'ha guardato. Maledetti i ratti. Hmm, cosa c'è di lì? Jenny! Smettila di nasconderti! Smettila di nasconderti! No! Ho poca vita! Allora, almeno ho trovato un punto meditazione. Anche se ho poca vita. Però va bene, dai. Sembri felice. Ah, è andata via la scansione. Vabbè. Ah, lui ti fa scendere. Non uscirai, vivo da qui, Jenny. Supererò le tue difese. Soldato pesante, punto di verità. Non lo riusciamo. No, cos'è la per il terraria? Non vedo l'ora che crescano. Ok. Oh, ti fa andare. Oh, di qua. Ti fa tornare qua indietro, ma non c'è niente. Ah no, non è vero che non c'è niente. Sono delle casse. Ah, c'era qualcosa. Eh sì, bisogna... ...controllare. Stiamo salendo su. Scendi. Ah, vediamo se non c'è qualcosa. Se si muore. Bisogna che devi per forza andare di qua. Spero vada tutto bene. Ahà. Spero vada tutto bene. Spero vada la cura. Spero vada. Spero vada爾 avrete. Dio vada. Spero vada registered. Spero vada¿ah! Grazie.